Mi chiamo Luca, e la storia che segue ha come protagonista me e il mio miglior amico. Noi ragazzi siamo sempre stati attratti dalle storie horror e inquietanti. Ricordo bene tutte le serate passate insieme a guardare film spaventosi e raccapriccianti, facendo persino a gara chi riusciva a non spaventarsi. Ma la paura che mai avremmo immaginato di provare si impadronì di noi, e quella volta i volti spaventati a morte furono i nostri. Un tardo pomeriggio di gennaio di qualche tempo fa, mentre si tornava a casa dopo aver fatto qualche tiro a pallone nel campetto, sulla strada del ritorno incrociamo un uomo abbastanza alto e robusto. Aveva una faccia buffa, in parte era pelato perché aveva dei lunghi capelli solo ai lati della testa, per non parlare dei suoi denti sporgenti. Insomma, un personaggio che sembrava un vero cartone animato. Il mio amico appena lo vide accennò ad un sorriso, ma subito gli tappé la bocca, dicendogli di evitare di prenderlo per il culo. Ma per quanto mi sforzai ad impedirlo, scoppiò in una forte e grassa risalta in faccia all'individuo, il quale si fermò per guardarci male. Di certo non potevamo prevedere quello che sarebbe accaduto. Continuamo a percorrere qualche metro, e a un certo punto, per curiosità, ci voltammo verso la sua direzione e stupiti notammo che lui era ancora lì, immobile, a fissarci. Il suo volto però, a differenza di prima, aveva assunto un'espressione inquietante. Facemmo finta di nulla, non volevo dare l'impressione di continuare a prenderlo in giro e così continuammo a camminare. Una decina di metri più avanti, il mio amico si voltò nuovamente e guardandomi mi disse «Sta tornando verso di noi». Inizialmente pensai che il mio amico stesse scherzando, ma non appena mi voltai vedi che era proprio così. «Aumentiamo il passo!» strillò. Ma giusto pochi secondi dopo, il mio amico gridò «Corri, corri!» Mi girai per qualche istante e feci giusto in tempo a vedere che quell'uomo stava correndo verso di noi. Dopo un po' riuscimmo a seminarlo. Così ci appostammo dietro l'angolo di una casa per sbirciare se ancora fosse alle nostre calcagne. Per fortuna ci aveva perso di vista, ma continuava a cercarci. Andammo via e tornemmo a casa. Purtroppo però la terribile esperienza non si limitò solo a quel giorno. Qualche sera più tardi, mentre camminavamo per le strade del nostro paese, notammo un'auto che lentamente ci passò di fianco. Si trattava di un'auto vecchia, un'auto agli ottanta. Ad un certo punto si fermò. Pensai subito che stesse cercando un parcheggio ed infatti così fu. Continuiamo a camminare, ignari di ciò che avremmo scoperto poco più in là. Il mio amico propose di sederci un po' su una delle panchine lì vicine. Passarono una manciata di minuti e quando riprendemmo a camminare sentimmo il rumore del motore di quell'auto che si accese e inizio a procedere verso di noi a passo d'uomo. Guardando meglio mi accorsi che dentro l'automobile c'era lo strano tipo di qualche sera prima. Appena realizzai ciò iniziamo a correre a più non posso come dei forsennati. Fino a raggiungere una strada sterrata dove l'auto non poteva raggiungerci. Ormai avevamo seminato l'automobile e vedevamo solo la luce dei suoi fari. Dopo un po' andò via. Per fortuna da quel giorno lo strano individuo non ci diede più fastidio. Penso che sia sbagliato da ridere le persone che a primo impatto sembrano buffe. Invito tutti a non farlo e di fare molta attenzione perché non si sa mai quello che potrebbe accadere. Sono Andrea e abito a Pedrengo un paesino vicino Bergamo. Vi racconterò un evento tanto misterioso quanto raccapricciante. Tutto ciò risale a circa tre mesi fa. Io e la mia compagnia per quattro giorni a settimana andiamo a giocare a calcio nel campetto dell'oratorio il più bello che abbiamo in paese. Per arrivarci passiamo attraverso una strada dove si trovano molte attività commerciali come macellerie, negozi e tanto altro. Però non si trovano case in quella strada l'unica che c'è ha un ingresso interno coperto di ghiaia. Il proprietario che ci abita è un anziano scorbutico che urla contro il primo che passa. Un giorno stavo andando come sempre verso l'oratorio passando davanti alla casa vedi il vecchio che ammergeva con qualcosa di metallico. Poi si voltò e mi guardò così diressi lo sguardo verso un'altra direzione e lui inizialmente con voce pacata mi disse Ragazzo ti serve qualcosa? Io dissi Nulla, nulla grazie mille. Poi più insistente Allora cosa ti serve? Nulla così andai via di corsa. Una volta arrivato ne parlai con i miei amici e ci scherzammo su ma al ritorno decisi di cambiare strada per raggiungere casa mia. Il tempo passò in fretta e quando guardai l'orologio mi accorsi che era giunta l'ora di cena e mi apprestai a tornare subito a casa. Ma dimentichai un particolare. Il vecchio era ancora lì. Con le stesse parole si rivolse di nuovo a me. Io non mi voltai ma sentii un brivido lungo la schiena. Però prosegui dritto fino a casa che distava 800 metri da lì. Ogni tanto dava un'occhiatina dietro per vedere se mi stava seguendo ma nulla era lì fermo con la sigaretta in bocca. Tornai a casa con il cuore in gola ero davvero spaventato. Qualche giorno dopo io e i miei amici essendo in giro notammo un'auto che sostò poco distante da noi. Abbassò il finestrino ma non si vide nessuno guardare. Noi ci guardammo per qualche istante ma continuamo a parlare tra di noi mentre quella piano piano si allontanò. Io e il mio amico Luca fummo gli ultimi ad andare via. Accompagnato Luca prosegui per casa mia suonai il campanello e mentre stavo per chiudere il cancello d'ingresso la stessa auto che vidi nel pomeriggio si accostò poco distante da me. Una voce familiare e assai inquietante mi disse Ti serve qualcosa? Chiusi il cancello e corsi in casa chiudendo a chiave porte e finestre. Ancora oggi ho il terrore di incontrarlo. Mi chiamo Valentina e ho vent'anni vivo in un paesino in provincia dell'Aquila. Da piccola sono stata vittima di bullismo non avevo neanche un amico con cui poter uscire parlare e giocare. Venivo picchiata da ragazzi e derisa continuamente e nessuno faceva niente in quelle situazioni. Le persone adulti compresi rimanevano a guardare senza muovere un dito. Fui costretta a passare gli anni delle medie chiusa in casa da sola senza parlare con nessuno. Finite le medie scelsi il liceo psicopedagogico. Il primo giorno fui felicissima poiché avevo molta voglia di imparare fare nuove amicizie e voltare pagina. Per i primi mesi mi feci un sacco di amiche uscivo e finalmente non ero più pervasa da quella sensazione orribile di solitudine. Conobbi così tante persone da non ricordare addirittura i nomi di ognuna. Beh, tutto ciò durò solo qualche mese poi iniziò l'incubo. Un giorno durante la lezione di italiano mi arrivarono continue chiamate da un numero privato. Non ci feci molto caso finché queste si trasformarono in sms anonimi con messaggi intimidatori. non volevo parlarne con le mie amiche per non creare problemi perciò inizialmente non presi la situazione sul serio. Andando avanti questi messaggi erano sempre più pesanti. Ti vedo so cosa stai facendo indossi una maglia rossa adesso sei nella tua stanza. Sapeva i miei orari chi frequentavo quando ero sola. Decisi di parlarne con la mia amica più stretta Ludovica. La situazione si faceva sempre più pesante quando io e la mia amica parlavamo arrivava subito il messaggio con ciò che stavamo dicendo e facendo. La situazione divenne più insopportabile quando iniziò a toccare i miei punti deboli la morte di mio nonno e varie minacce di morte. Nel frattempo dubitavo di qualsiasi compagno intorno a me io e la mia amica decidemmo di parlarne con la professoressa d'inglese la quale mi accompagnò per tutto il tratto fino al treno. Tornata a casa feci presente ai miei della situazione loro mi dissero di non farci caso erano scemenze probabilmente era qualcuno che come al solito stava approfittando della mia debolezza. il giorno dopo tornata a scuola tutti sapevano della mia situazione ed era come se si fossero distanziati da me la mia amica decise di prendere il mio telefono per un giorno per darmi conforto iniziò a minacciare anche lei a seguirla dicendole come era vestita e cosa stesse facendo ci spaventammo moltissimo durante il torneo di pallavolo lasciai il mio telefono a Sandra anch'essa una delle mie amiche più strette con la quale condividevo i miei problemi lei si assentò per andare in bagno ed una volta tornata mi venne a chiamare in modo preoccupato perché il suo zainetto era sparito cercammo ovunque negli spogliatoi niente andammo immediata dal professore il quale riunì tutta la classe cercando di capire nel frattempo era già stata convocata la preside la quale ci aspettava tutti in classe nel frattempo che salivamo la mia amica trovò il suo zaino ma senza il mio telefono dentro mi feci prendere dal panico andando immediata dalla preside a spiegare la situazione mi si è una nota disciplinare a tutta la classe proibendo la gita di fine anno mi sentivo colpevole per la situazione nessuno mi parlava quel giorno usci sola da scuola senza telefono e raccontai ai miei quello che mi era successo finalmente mamma prese sul serio il mio problema nel pomeriggio di quello stesso giorno mi portò a scuola per vedere e capire meglio la scuola la polizia non fecero nulla semplicemente bloccarono il codice del telefono dicendo che non ci avrebbero fatto nulla con un telefono bloccato mi trovavo nella stessa situazione di quando ero alle medie nessuno mi parlava più non avevo di nuovo amici un giorno tornata a casa aprì lo zaino per fare i compiti e mettendo le mani percepì un oggetto era il mio telefono tutto smontato la batteria era nella tasca della merenda mentre tutto il resto dentro le varie tasche accendendo il telefono per testare il suo funzionamento mi resi conto che era stato da poco utilizzato vi era uno sfondo con scritto sei una merda e varie scritte violente su blocco note decisi così di cambiare subito il telefono e la sim dando il mio numero solo alle persone strette dopo tutto ciò rimasi con davvero poche amiche che con il tempo mi abbandonarono tutte senza farmi notare troppo la loro poca voglia di stare con me adesso ho vent'anni l'unica persona che ho è il mio ragazzo non ho amici non mi cerca mai nessuno a volte ricevo richieste d'amicizia molto strane su facebook e non le accetto mai quello che mi è successo mi ha segnata fisicamente e psicologicamente e credo che ne porterò i postumi per il resto della mia vita è il mio ragazzo